Ho fregato i giudici francesi. Vittorio Emanuele, intercettato in carcere a potenza, parla in modo non certo nobile del delitto sull'isola di Cavallo nel 1978. Processati in Francia, il principe era stato assolto per l'uccisione di uno studente tedesco. Si riapre il caso Hammer, il giovane ucciso nel 1978 sull'isola di Cavallo. Per quel fatto fu accusato e assolto Vittorio Emanuele di Savoia, che ha sempre negato di aver sparato. Ma un video dimostrerebbe il contrario. Vittorio Emanuele di Savoia e altre 5 persone sono state assolte dal Tribunale di Roma per una vicenda legata all'installazione di una rete illegale di videopoker. L'assoluzione dal reato di associazione a delinquere finalizzata al falso e corruzione allo scopo di ottenere licenze per il gioco d'azzardo è arrivata perché il fatto non sussiste. L'inchiesta romana era uno stralcio di quella avviata nel 2006 dal pubblico ministero di potenza Woodcock. Nell'ambito dell'inchiesta, il figlio dell'ultimo redditale nel giugno 2006 era stato arrestato e detenuto in carcere per una settimana. Ecco, la vita di Vittorio Emanuele di Savoia è nuovamente sotto i riflettori dopo l'uscita della docu-serie Il principe di Beatrice Borromeo e le polemiche che l'hanno accompagnata. Di che cosa si tratta? Ce lo raccontano oggi Maria Pia Ruspoli e le giornaliste scrittiche Ilaria Grillini e Mirella Serri. Ben tornate e quando si tratta di reali sono felice di avere voi che siete maggiori esponenti. Proprio in questi giorni Ilaria ha intervistato Emanuele Filiberto a proposito della docu-serie Il principe. Sì, l'ho intervistato per gente ma più che altro perché ero molto curiosa di sentire il perché perché hanno deciso di fare questa cosa e di riaprire questo capitolo. E come l'ha trovato? In forma? Emanuele sta benissimo. Sta meglio di tutti. Grande forma. Emanuele è il figlio. Sì, sì, sì. Allora gli ho chiesto, dico, Emanuele ma perché avete deciso di riaprire questa ferita, questi momenti molto difficili per tante persone? E lui mi ha detto perché speravamo di dare anche la nostra voce. Comunque questo documentario l'avrebbero fatto lo stesso. E io dico sì, l'avrebbero fatto lo stesso ma senza di voi avrebbe avuto un peso diverso. Sarebbe stato un documentario, no? Certo. E lui ha detto che lo rifarebbe nonostante ci sono stati due punti che ha contestato. Ma perché ha accettato di partecipare? Ha accettato di partecipare perché volevano dare la loro versione. La loro versione ha questa cosa che ci fu a cavallò nel 78 e che finì con una soluzione del principe Vittorio Emanuele che fu accusato soltanto di porto d'armi da fuoco. Porto abusivo. Abusivo di armi da fuoco, quindi sei mesi ha avuto. E quindi insomma gli ho chiesto questa cosa e poi gli ho detto ma voi la rifareste? E lui ha detto sì. Sì, considera che gli ho detto scusa ma avvocati, c'erano, l'hai messo in mezzo gli avvocati, ti sei fatto mandare le domande. No, assolutamente no. E loro sono così, li conosco bene. Cioè l'hanno fatto assolutamente in buona fede. In che senso sono così? Sono così direi in termini carini, un po' sprovveduti. Ingenui. Sì, io non l'avrei mai fatta questa cosa. E la dimostrazione che secondo me non andava fatta c'è alla fine. Adesso mi parlate perché lei è d'accordo ma... Perfettamente d'accordo, non l'avrei mai fatto una cosa simile perché non si rimette le dita, le mani dentro una ferita. Una ferita che ormai era passata e sono passati circa 30 anni, dolorosa per tutti, dolorosa per chi ha avuto la perdita di un figlio e anche per il principe Casa Savoia. Non l'avrei mai fatta. Forse Beatrice Borromeo è stata molto abile nel convincere il principe. Lei che è nobile, quindi frequenta, conosce l'ambiente. Com'è stata accolta questo docufilm? Con la verità non tanto bene, diciamo, no? Perché si riapre una ferita, quello che stavo dicendo, un'antica ferita che non era il caso di riportare di nuovo a un'attualità di oggi. è veramente, insomma, qualcosa un po'... Ma da ieri e oggi è cambiato qualcosa anche grazie a questo docufilm? Da ieri e oggi sì, secondo me sì, perché questo docufilm a me sembra molto equilibrato. Cioè non è vero che è così, diciamo, che sposa una causa o un'altra. Fa vedere i vari punti di vista. Poi ci sono i fuori onda che Beatrice Borromeo, che è un'inchiestista, diciamo, con questo termine, molto che ha lavorato per giornali, insomma, come dire, sa come provocare, sa come attirare l'attenzione, ha messo i fuori onda alla fine e dire adesso vi dico io qual è la vera storia, no? Però secondo me sì, perché fa discutere, riapre, tra l'altro riporta, riapre la discussione, ma secondo me è bene. Per esempio, anche di recente, mi pare adesso un anno fa, per esempio hanno... è stato riproposto il tema delle leggi razziali e Emanuele Filiberto ha detto appunto, ha fatto l'autocritica e l'ha fatta lui, non è che è stato... l'ha riproposto lui. Quindi mi sembra che si fanno dei percorsi in cui voi siete molto, come dire, addentro alla questione, ma invece gran parte della pubblica opinione ha, con questo docufilm, il modo di valutare due punti di vista diversi. Il punto fondamentale è uno, però. Allora, qua bisogna decidere, perché lui è stato assolto, non l'ho deciso io. La corte d'assise di Parigi... Ma non viene negato. No, scusami, la corte d'assise di Parigi l'ho assolto. Questo è il punto sul quale Emanuele batte, perché dice che questa serie... Ed è stato anche risarcita. Questo per un'altra cosa ancora, però. La serie è fatta molto bene, secondo me. Esatto. Ma non tira fuori nulla di nuovo, perché i filmati del carcere li abbiamo visti tutti 14 anni fa, quando uscirono. E il problema è che quella non è una confessione. Quelli sono dei filmati presi nel carcere, quando questa persona era, come lui stesso ha detto a me, nell'unica intervista che ha rilasciato quando uscì da lì, dice io ero gaga, perché era un termine che io l'ho mai sentito, tra l'altro, perché lui prendeva delle cose per stare tranquillo, insomma, degli psicofarnaci. Dei tranquillanti. Dei tranquillanti. E lui mi ha detto, io ero pieno di questo. Quindi quello che ha detto non ha detto. E comunque non è una confessione, che è quello che invece viene fuori dalla serie. E quello per il quale Emanuele ha detto, dice, questa è ingiusta, non è corretto. Perché comunque sia, c'è stata una soluzione, e ripeto, io non sono un giudice. Proprio per questo non viene riaperto il processo. La giustizia fa col suo opposto. Non viene riaperto il processo, però insomma il fatto che lui dica, gli ho fregati tutti, c'erano 20 testimoni che io sono riuscita a portare. Dai, scusami, fammi finire. Dai, il senso di quello che vuole dire il documentario. Vuole dire che a volte la giustizia è anche ingiusta perché tutela i privilegiati. Questo è il senso del documentario. Non dobbiamo andare contro la giustizia, contro i giudici, assolutamente no. Noi dobbiamo essere ligi e eseguire quello che ci dì, cosa sono le regole e qual è la giustizia in tutte le sue forme. Quindi non possiamo andare contro la giustizia, assolutamente no. Noi possiamo avere ognuno di noi un pensiero di come sia andata questa cosa, questo non toglie però che ci sta una giustizia che è stata fatta. Puoi non essere d'accordo, quante volte non siamo d'accordo quando vediamo dei fatti di cronaca. Ma non è una confessione, era un fuori onda, stiamo parlando dell'intercettazione. Sì ma non è una confessione, questo è il punto fondamentale. Lui è stato assolto, poi può fare piacere o non può piacere a me. Non si riapre il processo però dal punto di rispetto. Però il fatto che il figlio abbia voluto fare questa cosa è in piena libertà di repressione e di condivisione. Perché noi ne stiamo parlando, però se lui ha sentito il bisogno come figlio di poter fare questo... Il figlio, se vuoi, è audace, però lo fa bene o fa. E quindi questo noi lo apprezziamo, audace dal suo punto di vista. Personalmente non l'apprezzo per niente, gli ho detto che è un cretino perché una roba del genere non la vai a riaprire. Perché c'è troppo, troppo, troppo male, troppo dolore che non è stato mai... Però guarda che a stimolare l'inchiesta, solo una cosa, a stimolare l'inchiesta, l'inchiesta della Borromeo è stata la sorella del giovane che è stato, che è morto in quell'incidente, diciamolo così, a Cavallò. E la sorella ha scritto un libro e quindi, come dire, a stimolare la riflessione sul dolore è stata, fammi finire, la sorella della vittima. La sorella della vittima è stata finanziata, aiutata dal giorno dopo questo attentato, da Paola Marzotto, che è la mamma della Beatrice Borromeo. Quando c'è stata questa storia, Beatrice Borromeo non era neanche nata, lei la chiama zia, quindi è ovvio che la vive in prima persona. Però fai una cosa del genere, secondo me è fatta benissimo. Io sulla serie non ho niente a dire tranne la fine. Ecco lì per me... Perché ha fatto una cosa che io mi sono trovata nelle stesse situazioni, ho delle testimonianze e non le ho mai rese pubbliche. Quando io faccio un'intervista a te e l'intervista poi finisce, e io appoggio la telecamera per terra, se questo ti resta attaccato e tu mi parli di qualunque altra cosa, io non la mando in onda. Ma è naturale, è ovvio. Ma non te lo dico così, te lo dico perché è successo a me. Io ho avuto mogli di presidenti del Consiglio, gli stessi Savoia, che mi hanno detto delle cose che nessuno ha mai sentito. Io non l'ho mai rese pubblica. Non si pubblica, non si pubblica. Siamo prima delle cose che non è un libro. Questa però è una tua opinione che altri non condividono. Esattamente. Non si pubblica, non si pubblica. Non si pubblica, bravissima. C'è un mondo giornalistico che lo fa. E poi mass media naturalmente. C'è un mondo giornalistico che lo fa. Beh, certo che pubblica i fuori onda, però in questo caso non mi sembra che è meno particolarmente offensivo. No, no, non è offensivo per niente. Se non è offensivo... È una storia vecchia, non è offensivo. Però aspetta, col fatto che sia vecchia, c'è gran parte della pubblica opinione, direi il 99,9%, che non la conosce. Ecco. Quindi che lei lo faccia, lo faccia bene, e metta sul piatto della bilancia due opinioni, questo l'hai detto anche tu, no? Quindi mi pare che siamo d'accordo. Due opinioni, una di un tipo e una di un'altra. Io sono convinto, e il figlio lo approva, quindi io penso che... Ma questo documentario ha portato qualcosa di nuovo? Questo documentario ha rimesso in luce questo episodio? Sì, ha rimesso in luce, ma ha portato... No, assolutamente no, tant'è vero che ci sia un'ottima ricerca di materiale. Io trovo che sia fatto molto bene. Assolutamente niente da dire, ma non c'è nulla di nuovo. Noi tutto quello che abbiamo visto... E allora che cosa ha spinto? Il fuori onda. Il fuori onda è di nuovo, è nuovo. No, 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 sono due i fuori onda, non mischiamo le cose. Quello importante nella serie l'avevamo già visto. C'è quello di lui in carcere che dice quelle cose. Ma quello era già uscito. Ma quello di Juan Carlos non c'entra con la serie. Come si fa raccogliere quelle... Ma quello è reso pubblico. Quelle dal carcere, non so, da chi, da personaggi che stanno in carcere raccogliere queste... Io sento gran movimento qui e mi piace un sacco, mi piace un sacco, quindi dobbiamo ancora rivederci per continuare. No, no, no. Questa è una serie televisiva. Chiudiamo, chiudiamo. Chiudiamola così. Siccome io sono ancora, grazie, grazie per se c'è stata, per aver raccontato, ancora una volta con grande passione e competenza, quindi grazie, vi aspetto ancora. Grazie a tutti.